Allora, stiamo parlando di tutte queste cose, fantasma dell'origine. Qui il dottor Giulio Capone, detto Giulio ormai per gli amici, siamo qui, dove veniva a parlare un'altra volta della penicillina. Però, come invece mi è piaciuto molto quando è venuto e ha parlato del lavoro di cura, del toccarsi, del guardarsi negli occhi. Ti va, ora faccio come fa Andrea, ti va, aggiungere qualcosa a tutto quello che hai sentito. Fai che sei il professore sommo, quello che sa tutto e che hai osservato con distacco e che quindi adesso tiri le conclusioni, sei quasi delegato a questo. Allora, ti ringrazio. E guarda la telecamera, eh. Fai finta che guardi in me, però guardi la telecamera. È il gioco, no? Sei già stato qui. Certo. Allora, ti ringrazio della possibilità di poter esprimere qualche emozione. Io credo che noi siamo una carta assorbente che riguarda un po' tutto. la nostra vita, che noi leghiamo a dei movimenti, a delle usualità, sembra quasi che noi viviamo e compiamo sempre le stesse cose e non diamo mai spazio a qualche cosa che c'è dentro e che è una sorta, come ripeto, di carta assorbente che assorde. come il cantautore che lui ha detto io afferro delle emozioni, delle cose e magari le porto dentro e poi riemergono dopo anni. Allora io penso, e questa è l'emozione che vivo qua tutte le volte che sono venuto qua, a parte il discorso mio personale di lanciare questa figura che è importante di Vincenzo Di Berio, ma quello che vivo come uomo lo posso vivere qua, ma lo vivo tutti i giorni anche nel mio ambulatorio, dove qui afferro il sociale in modo diverso. Il sociale qui è affrontato in maniera diretta, è vissuto, mentre nella nostra realtà tendiamo un po' a isolarlo e questo non è giusto. Anche perché il sociale inteso con disabilità, non disabile, come avete detto stasera, e mi trova perfettamente d'accordo, questo aspetto ce l'abbiamo già tutti noi dentro in qualche modo, un po' appartiene alla nostra vita. Allora il vederlo con un occhio diverso, secondo me, a me aiuta, perché mi fa maturare. Maturare che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente credere in qualcosa in più e anche poi successivamente queste emozioni che vivo qua e le trasfondo dentro di me e poi le riporto fuori. E allora tante cose che io vivo tutti i giorni anche nel mio ambulatorio di medicina generale, dove certe volte magari da parte del medico, da parte mia esiste, magari c'ha degli aspetti personali per cui ti andi a chiuderti, aver portato questo qualcosa che ho qua dentro, che prendo qua mi scioglie e questo mi rende il rapporto con gli altri e con quelli che non hanno la cosiddetta disabilità mi rende il rapporto più semplice. Ma io ritengo che questo che vivo qui per me sia ancora più importante per poter poi maturare le emozioni, le sensazioni e cambiare un po' la mia vita nell'ambito di tutti i giorni. hai capito? Quindi abbiamo capito che questo luogo abbiamo capito che questo luogo è un luogo terapeutico per chi fa la professione già sanitaria o sociale di formazione. Pensate un po'. Potremmo farcelo riconoscere dal Ministero, dalla Regione, guarda un po' che cosa. Io adesso però casco pure, metto qui perché qui non si vedono e così costringo lui a ripetere. Voglio, io chiamarlo, ci tenevo tanto oggi a avere l'ultima puntata i campioni d'Italia, quelli del Santa Lucia, un applauso come ha detto prima che finisca il campionato ma penso che rimarranno campioni d'Italia insomma, sono appena tornati dalla Spagna dove hanno fatto le qualificazioni per la Coppa Campioni e si sono qualificati tutte vittorie però prima di cominciare a parlare del loro favoloso anno sportivo anche quest'anno noi li abbiamo chiamati perché insieme alla Cooperativa Sociale Integrata Madiosca, l'Associazione Volontaria di Cavallo Bianco e altre due cooperative la cooperativa Tante e la cooperativa Capodarco stiamo facendo un lavoro nelle scuole di Roma in tre scuole in particolare la scuola Giardinieri la scuola Grazia dell'Edda che è una media la giardiniera è un elementare e la scuola Cattane è un'altra media noi facciamo risolto dei percorsi sulla diversità entriamo nelle scuole con i nostri madrioschini ma anche con altri soci che sono sulla sedia a ruote e incontriamo i bambini nella diversità la diversità delle sedie a ruote delle barriere culturali delle barriere archiettoniche delle barriere degli stranieri come Mascia che arrivano in classe facendo finta di non sapere parlare l'italiano e dicono cose strane in russo facendo strani gesti quest'anno abbiamo pensato ma perché noi gli facciamo vedere anche gli esempi positivi noi già gli facciamo vedere gli esempi positivi perché è tutto un gioco facendo vedere lo sport paralimpico e allora ci siamo portati questi qua alcuni di loro vengono periodicamente e prima raccontano ai bambini un incontro cosa fanno facendo vedere video e poi l'incontro successivo li fanno giocare a basket e in carrozzina che è uno sport molto complesso io sfido chiunque me stesso per primo che non lo farò mai a mettersi su una serie a legarsi e a fare questo sport ci vuole tanta di quella prestanza atletica credo e qui abbiamo appunto Carlo Di Giusto che è il coach si dice così del Santa Lucia ma anche della nazionale italiana quindi non è uno qualsiasi è grande campione del passato faccia questo si può dire che ecco passo la parola prima a lui se gli dai il microfono Mascia che questo non può parlare stanno là dentro la padella guarda posso prendere? si dai un microfono perché non l'abbiamo microfonato perché ci racconti loro nelle scuole che già ci sono stati tante volte anche per conto loro cosa stanno facendo insieme a noi c'è qualche differenza a farlo insieme a noi insomma facci pubblicità a noi e fate pubblicità pure a voi insomma a te la parola Carlo assolutamente sì e intanto buonasera a tutti grazie di averci invitato perché penso come più di qualcuno ha già sottolineato questo è un luogo dove si parla di cose molto importanti che spesso vengono nascoste e sottovalutate sotto tutti i punti di vista anche lo sport nel suo piccolo se vogliamo aiuta a rientrare spesso in una situazione sociale di sentirsi soprattutto protagonisti dopo essere stati per tanto tempo spettatori della vita degli altri in maniera un pochino diversa io penso che la cosa bella da vedere la cosa bella da sottolineare di questa sera è che ci sono tante persone che vivono certe situazioni con la passione e non come semplici impiegati che devono portare avanti una pratica perché credono e perché vivono col sentimento e con anche le esperienze personali delle situazioni fra parentesi di disagio che con pochissimo impegno che spesso viene a mancare dalle istituzioni potrebbe trovare delle soluzioni e delle situazioni vantaggiose per poter tornare o per poter partecipare alla vita di tutti i giorni la mia figura dopo aver vissuto l'esperienza di essere esonerato a scuola dal fare educazione fisica venivo lasciato nella classe ad aspettare i miei compagni che andavano fra l'altro a fare educazione fisica in una palestra al secondo piano dove mi rimaneva difficile anche solo andare a vedere cosa facevano è stata sempre una vita legata alla rivalza e adesso quello che posso fare qui vediamo alcune immagini dei nostri allenamenti nella nostra palestra è permettere a tantissimi bambini anche con patologie veramente gravi per cui magari non diventeranno mai dei campioni ma a venire a stare insieme agli altri ad aggregarsi a superare semplicemente un piccolo ostacolo come può essere quello di girare intorno a un birillo o a prendere un pallone in mano anche per pochi attimi e credo che sia una cosa fondamentale perché trasmettere le esperienze personali e dare delle opportunità a tutti di poter vivere dei momenti di allegria di socialità e di aggregazione penso che sia un significato che poche vittorie mi hanno dato e posso dire per mia fortuna anche per mia capacità perché ho dedicato tutta la mia vita allo sport di aver vinto veramente tanto ma quando vedo un bambino che per la prima volta adesso ce n'è uno di quattro anni e mezzo veramente che entra nella palestra e comincia a parlare a girare con la carrozzina a fare cose diverse dalla pure e semplice riabilitazione che è abituato a fare per me è la vittoria più grande di sempre grazie del progetto delle scuole faccio parlare di diretta interessata ah non si è preparato dagli un altro microfono così almeno lui se lo tiene che io lo so che il coach vuole intervenire vuole bacchettare se poi non va bene ecco vai da quest'altro lato Mascia eccoci chi vuole parlare ma non vuole parlare nessuno ma vi siete preparati certe figure io dico questi sono quelli che devono parlare per conto nostro i belorussi zitti voi zitti eh presentatevi sì non vi vedo io ciao a tutti io sono Beatrice e lei è una nazionale vero? sì fra l'altro ha un percorso diciamo che può essere sotto altri punti di vista simile a loro perché lei è stata colpita dall'apoglio lei è di origini rumene ed è venuta in Italia da dieci anni di più da circa dieci anni anche perché i genitori giustamente nella speranza che ci potessero essere delle soluzioni diverse e qui in Italia hanno fatto questa scelta si sono integrati in maniera incredibile fra le altre cose lei nel giugno scorso è diventata cittadina italiana e ha partecipato ai campionati europei con la nazionale italiana raggiungendo per la prima volta nella storia della nazionale italiana femminile una vittoria e quindi ha vissuto anche un momento veramente positivo e ho voluto che loro soprattutto i giovani Beatrice Giulio Maria Papi e Laura Morato qui manca Dario Di Francesco che è un altro giovane essendo anche studenti hanno un modo diverso di approcciarsi con questi ragazzi delle scuole per parlare un po' di quella che è la loro esperienza sia sportiva ma soprattutto di stare insieme perché poi il bello del basket in carrozzina è uno sport di squadra dove si convive come in una grande famiglia portando i propri difetti ma anche portando le proprie cose positive cercando di trasmetterle e di viderci tutto forse sentiamo le voci di questi qua Giulio ciao a tutti sono Giulio Maria Papi e anche io partecipo a questo progetto che sono veramente molto contento perché andare nelle scuole a raccontare la nostra esperienza comunque è diversa ognuno rispetto all'altra e trovare questi ragazzi così pieni di voglia che fanno domande sono iperattivi con la carrozzina e soprattutto poi invitarli a vedere le nostre partite che affollano comunque le tribune con i genitori è veramente una cosa molto importante soprattutto per mandare un messaggio che come fanno benissimo anche le insegnanti che vedo qua o comunque anche le insegnanti le professoresse proprio spiegare che tra noi e loro non cambia niente è solamente uno sport come gli altri e comunque la voglia la passione di vincere è uguale a qualsiasi sport e adesso vi passo Laura ciao a tutti io sono Laura e aggiungo solo che ho trovato questo progetto molto positivo perché aiuta i ragazzi sin da piccoli a aprire gli occhi su delle realtà che magari prima non conoscevano bene tocca più nessuno volevo semplicemente concludere dicendo che poi l'essenziale di tutto questo è che loro provano a mettersi in carrozzina magari a giocarci a utilizzarla come se fosse un mezzo qualsiasi e questo dal punto di vista culturale penso sia molto importante perché se ricordo quando ho iniziato io quasi 40 anni fa magari più di qualche volta mi capitava in determinati posti affollati con delle persone che quando passavamo noi con le carrozzine facevano gesti scaramantici che evito di ripetere mentre la cultura del vedere una carrozzina come un semplice mezzo che permette a loro di muoversi o di avere una vita più normale possibile sicuramente diventa una cosa importante già capire che quel mezzo non è un qualcosa che ti rende diverso quindi progetto che abbiamo detto non l'abbiamo detto si chiama un mondo per tutti provare ad alzarmi intanto guarda che strano conduttore un mondo per tutti e la cosa importante per chi vuole saperne di più contatta chiaramente tutti quegli indirizzi che trovate nel serpentone ma dovrebbe esserci l'evento finale il 14 maggio l'abbiamo già fissato perché con le scuole bisogna essere appunto previdenti e dargli largo anticipo le date perché il 14 maggio loro sperano di giocare in casa ai playoff quindi la mattina ci sarà l'evento con le scuole vi invitiamo a tutti voi a partecipare in cui presenteremo i lavori fatti saranno piccoli video cartelloni testimonianze dei ragazzi e poi il pomeriggio c'è la partita dei playoff sicuramente del campionato di serie A di basket in carrozzina si è fatti i calcoli Carlo che dovrebbero giocare in casa perché hanno fatto tutti gli accoppiamenti se non gli va male qualche cosa nel frattempo comunque il 14 dovrebbe quindi il 14 maggio la finale di un mondo per tutti e la finale speriamo anche della partita decisiva con cui entreranno ancora campioni in Italia ma prima di concludere con voi che avete fatto in Spagna? in Spagna abbiamo fatto un giurio di qualificazione la coppa dei campioni del basket in carrozzina prevede che si disputano delle pool che qualificano due squadre per ogni pool che si vanno ad aggiungere alle due che sono la detentrice e l'organizzatrice dal 5 all'8 maggio quindi saremo fra le prime otto squadre europee e ci andremo a giocare questa coppa dei campioni per club a Zikao che è una città fra Dresda e Lipsia quindi ex Germania dell'Est e speriamo di poter raggiungere il massimo obiettivo già essere lì per noi è un grosso vanto il 14 maggio potremmo festeggiare lo scudetto e la coppa campioni di solito ne portiamo fortuna quindi se lo facciamo poi ci pagate una cena di quelle a tutta la gente qui non parlare senza microfono assolutamente così non bene che si deve registrare anzi organizziamo per me tutti che mi hanno detto che ci abbiamo più 17 capito quanto sei lungo sei lungo sei lungo sono lungo eh sì sono lungo mi hanno saputo che sono largo invece non diventavo lungo la vogliamo ringraziare guardiamo dire quanto scudetto avete vinto eh lo diciamo eh 12 coppe Italia 3 coppe dei campioni 3 coppe per Gavone e 5 supercoppe italiane scusate se è poco eh più della Juventus più della Juventus grazie grazie